Torna l'obbligo di mascherine all'aperto in Campania. A conclusione dell'ultima riunione dell'unità di crisi tenutasi questa mattina, il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha firmato l'ordinanza che contiene ulteriori misure per la prevenzione e la sicurezza. Su tutto il territorio regionale, con decorrenza dal 24 settembre 2020 e fino al 4 ottobre 2020, fatta salva l'adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza ai dati epidemiologici, è stato disposto l'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto. Occorre ripristinare immediatamente comportamenti responsabili, spiega il Governatore appena rieletto, a maggior ragione con l'apertura delle scuole. Se vogliamo evitare chiusure generalizzate, è necessario il massimo rigore. L'obbligo si estende durante l'intero arco della giornata, a prescindere dalla distanza interpersonale. Rimane escluso per i bambini al di sotto dei 6 anni, per i portatori di patologie incompatibili con l'uso della mascherina e durante l'esercizio in forma individuale di attività motoria o sportiva. Di conseguenza è fatto obbligo ai titolari di esercizi commerciali, culturali, ricreativi o comunque aperti al pubblico, di effettuare la misurazione della temperatura corporea all'ingresso dei locali e di assicurare la presenza ai dispenser di gel o soluzioni igienizzanti, subordinando l'accesso alla previa igienizzazione delle mani e a riscontro di temperatura inferiore a 37 gradi e mezzo.